Ciao a tutti, io sono Alessandro, sono un ragazzo di 31 anni e sono fin da sempre appassionato di quello che è il continuo della vita delle cose prima che queste cose vengono destinate alla loro fine, quindi allo smaltimento, che vengono destinate alla distruzione e che in qualche modo abbiano all'interno di questi oggetti una vera e propria anima che possa essere sia per il riutilizzo, per quello che è di per sé la possibilità che un oggetto possa continuare ad avere il proprio utilizzo e quindi un continuo del proprio ciclo di vita, sia per quanto riguarda l'affinità delle cose vecchie e quindi tutto quello che emana all'interno di un proprio oggetto una sostanza, perché non per forza un oggetto debba avere un'utilità, ma come tutti possiamo immaginare ci sono delle cose che servono solo per abbellire e quindi di per sé hanno uno scopo che è quello di trasmettere qualcosa, che sia arte, che sia un significato, che sia una simbologia. Per me il significato che oggi cercherò così di parlare grandi linee e di fare una sorta di tema è quello che riguarda il contrastare la cultura dell'usegetta, la possibilità di cambiare e modificare le proprie attitudini all'interno del proprio stile di vita e affrontare nel miglior modo il passato e il futuro che si può presentare. Io ho fatto una laurea in scienze politiche, come tema ho utilizzato strategie politiche per soluzioni di rifiuti zero, mi sono laureato lì circa nel 2015 e ho incontrato già quella volta, quindi parliamo di 7 anni fa, il tema zero waste, conosciuto a livello internazionale, come la possibilità di produrre zero, quindi zero waste significa rifiuti zero, che di per sé è una cosa utopica, perché significherebbe produrre zero e significherebbe consumare zero e quindi avere un impatto ambientale uguale a zero, questo è impossibile, però come possiamo immaginare, sognare rende sì che le cose si possano avverare e quindi partire da una cosa irraggiungibile ti fa perlomeno arrivare al più vicino obiettivo e quindi la teoria zero waste è una teoria che si applica all'interno della pubblica amministrazione, all'interno della vita privata del cittadino e sono degli step, dei consigli, delle direttive europee, delle decreti legge italiani che permettono di avere un certo stile di vita, che è quello di poter avere un impatto il più vicino possibile vicino allo zero, questo significa che a livello di dati, per mettere dei dati, per darvi un'idea, ogni anno la media pro capita di rifiuti che produce un singolo abitante siamo intorno ai 550-600 kg, questa è una media europea, ci sono paesi che hanno una produzione molto più bassa come possono essere i paesi nordici, i paesi scandinavi, paesi come quelli invece dell'est Europa con una produzione che è quasi del triplo e quindi l'obiettivo è quello di capire quali di questi 600 kg noi possiamo andare a contrastare ed evitare smaltimento e evitare che vengano inseriti all'interno della catena di rifiuti. Io come avevo già detto ho la passione di riutilizzo delle cose perché anche se è una cosa rotta ci vedo una sua possibilità di una seconda vita e ho sviluppato all'interno di San Marino un centro di riuso che si è andato a fondare nel 2016 proprio con l'obiettivo di contrastare lo spreco. Ogni anno noi possiamo far sì che circa un 8-10% di quello che noi andiamo a consumare, quindi poi ad avere un rifiuto, di dimezzarlo e questo ci permette ogni anno come centro di riuso in una piccola realtà come San Marino di raccogliere dalle 60 alle 70 tonnellate che i numeri per la gestione dei rifiuti sono numeri molto piccoli ma per una realtà come San Marino e per una realtà prettamente nuova sono tanti risultati perché questo implica una gestione di una nuova attività, l'incremento delle unità forze lavorative, una diffusione sia di buone pratiche sia comunque sia di rispetto dell'ambiente. Tutto questo parte perché noi produciamo rifiuti, tutto quello che è rifiuto è uno scarto e tutto quello che è uno scarto ha un impatto ambientale. Questo significa che oggigiorno in un capitalismo dove siamo tutto quello che noi abbiamo ha una ripercussione sull'ambiente anche se non lo vediamo e questo a noi molta gente non interessa, molta gente se ne frega ma con il tempo le cose si possono vedere perché se noi abbiamo delle difficoltà di spazi di gestione dei rifiuti, se non sappiamo più come poter ottimizzare a livello di pubblica amministrazione la gestione dei rifiuti, se comunque sia le acque sono inquinate o tutta una serie di cose che potete immaginarvi è perché questo è ripetersi di 20 anni fa, non è il susseguirsi di quello che sta succedendo adesso, è quello che è stato svolto negli anni precedenti. Contrastare alla cultura dell'usegetta, ritornando al tema appunto che è quello principale dello zero waste, contrastare all'usegetta ha fondamentalmente tre punti che è quello di prevenire, ridurre e riciclare. Prevenire sarebbe fondamentalmente quindi attraverso una pubblica amministrazione che fa sì che il cittadino riceva i messaggi e le informative necessarie per poter applicare al meglio quello che in casa sua si trova ad avere come rifiuto, quindi fare un atto di prevenzione che è quello che noi come Riuso facciamo, preveniamo la produzione di rifiuti, quindi prima che un rifiuto diventa rifiuti di per sé noi lo intercettiamo, sottraendolo quindi alla gestione dei rifiuti e rinsenendolo con un processo che si chiama economia circolare all'interno del tessuto organico che è quello del circuito del riuso. Prevenire è una delle cose principali come ti insegnano del medico mangio una mela al giorno oppure previeni prima di combattere, tutte queste cose sono vere e quindi prevenire è la cosa principale. Ridurre è il significato di cambiare un attimo gli stili di vita e rivedere cosa è prettamente necessario e cosa non lo è e cercare di sacrificare senza cambiare il tuo stile di vita quello che è superfluo, quindi soprattutto l'usegetta. Se devi scegliere se bere un bicchiere di plastico con un bicchiere di vetro scegli il bicchiere di vetro, a te non ti sta cambiando il tuo stile di vita ti sta cambiando semplicemente il mezzo per raggiungere il tuo fine, ma a te fondamentalmente se tu soddisfi un bisogno il mezzo con cui lo fai non è che cambia se lo utilizzi la plastica, il vetro o se semplicemente ti fai dare un passaggio con la macchina al tuo amico piuttosto che andarci con la tua macchina queste situazioni qua. Poi c'è il fatto del riciclare, che riciclare è quello che significa appunto far sì che la gestione dei rifiuti avvenga nel modo migliore, che però non è il mio tema. Il mio tema è quello di capire come poter riutilizzare le cose. Io ritengo personalmente che debba venire a monte perché tutte le volte quello che se ne deve accollare è il cittadino, che il cittadino deve sentirsi quello che è colpevole di produrre rifiuti, ma io ritengo che se noi produciamo rifiuti è perché c'è qualcuno che ci dà i mezzi per farlo. Quindi se noi compriamo una tecnologia, se noi compriamo un elettrodomestico, se noi compriamo un indumento, se noi compriamo qualsiasi cosa che ci viene offerto sul mercato, noi siamo libri di comprarlo quindi non ci dobbiamo chiedere se è fatto eticamente, se rispettano certe cose, se hanno comunque sia pensato a determinate cose riguardo all'ambiente. Noi lo compriamo perché queste cose qui non lo sappiamo fare. Ritengo che il fatto di chi produca debba avere una responsabilità e si chiama responsabilità del produttore quindi chi produce è responsabile di quello che produce, quindi significa che non deve essere un'obsolescenza programmata, quindi significa che tu sei responsabile di produrre un prodotto che duri negli anni non che dopo un tot di anni finisca. Devi essere responsabile sulle persone che consumano perché tu hai una responsabilità della persona che andrà a consumare il tuo prodotto e quindi tu devi anche creare un prodotto dove innanzitutto se si rompe debba avere la possibilità di essere riparato e quindi utilizzare metodi di assemblamento che sono facilmente disassemblabili perché se io ti costruisco una lavatrice dove per andare a smontare un cuscinetto è stato inserito da un robot se si rompe il cuscinetto che costa 1,50 euro io devo buttare via la lavatrice perché non posso aprirla e quindi chi produce è colpevole di quel rifiuto se io permetto che questa lavatrice si possa disassemblare e io possa andare ad intervenire con una riparazione posso permettermi che il suo ciclo di vita continui e quindi la responsabilità del produttore è molto importante la responsabilità del consumatore è a sua volta molto importante perché chi consuma deve in ogni modo avere un'etica di consumo quindi cercare di non farsi ingannare dalle pubblicità preferire piuttosto un'economia locale piuttosto che un'economia su scala globale e quindi avere un'etica di consumo che però in un mondo capitalista è molto difficile da raggiungere questa cosa un'altra cosa è quella della riprogettazione quindi riprogettare una struttura per quanto riguarda il consumo dei materiali che possa di per sé diventare ad esempio io ti parlo ad esempio di paesi scandinavi che sono il top sono numero uno per quanto riguarda il riuso che hanno creato centri commerciali dove comunque sia venivano o abbandonati o comunque sia venivano solamente utilizzati nei periodi di sconti quindi sovraffollati ma in altri periodi non riuscivano a campare sono stati creati dei centri dove all'interno di un vecchio centro commerciale di un vecchio magazzino, di un vecchio stabilimento industriale venissero creati degli spazi con i vari mestieri quindi veniva inserita la sarta, veniva inserito il falegname veniva inserito il manutentore, il tutto fare dove una persona andava magari si acquistava al piano inferiore il prodotto usato e poi andava al piano superiore dal tappeziere a farci rifodere alla sedia oppure si prendeva il mobile che era rotto andava di sopra al falegname a fargli vedere il mobile che era rotto quindi si creava all'interno di una stessa struttura una nuova economia e nei paesi soprattutto come la Svezia e tutti i paesi nordici Danimarca sono cose molto in voga è diventata quasi una moda mi viene da dire che viene talmente apprezzata che la gente preferisce quello piuttosto che andare nel grande magazzino per comprare le grandi marche che non ti differenziano più da nessun altro e poi per quanto riguarda il riuso ci sono le buone pratiche che vengono inserite negli ultimi anni anche all'interno delle scuole perchè abbiamo notato che le scuole sia a livello elementare principalmente a livello elementare che qualcosa nelle medie vengono inserite dei piani di studio dove viene spiegato tutta questa cosa che è appunto l'impatto sull'ambiente il riciclo e il riutilizzo cosa che quando io ad esempio ti parlo di vent'anni fa veniva fatta ma magari si dava più importanza ad altri settori come quello agricolo, piantare un albero che invece adesso viene inserito all'interno dei programmi e questa è una cosa molto positiva e in più quello che riguarda il tema del riuso sono le direttive europee perchè essendo parte dell'Unione Europea noi dobbiamo ristare delle direttive europee che emanano delle direttive che la principale è del 2008 direttiva 98-2008 che danno delle grandi linee generali che poi ogni paese può adottare con i vari decreti a livello di riuso in Italia è stato fatto molto perchè sono stati sviluppati 100 centri del riuso è stato fatto tanto perchè fino a 10 anni fa non esisteva manco uno questo perchè un gruppo di persone grazie a delle direttive europee ha fatto sì che in Italia si sviluppasse questo network e oggi questo network è sempre molto più capillare c'è sempre la nascita di sempre più centri nei vari comuni grazie comunque sia a delle direttive europee questo permette di creare all'interno della comunità diversi vantaggi uno di tutto è quello dell'ambito solidale perchè le persone possono trovare all'interno della propria comunità un centro oppure un gruppo di persone che sulla base della solidarietà si occupano di dare vita agli oggetti questo non è da poco perchè le pubbliche amministrazioni possono creare un servizio che la comunità può utilizzare perchè non tutti hanno la possibilità di comprarsi degli oggetti nuovi e questo permette alle persone di ridurre di almeno il 50% l'acquisto di materiale di prima necessità è una cosa che a livello diciamo di 10-15 anni fa non veniva in nessun modo normato non veniva in nessun modo delineato con delle linee guida ha creato quindi la possibilità per il cittadino di avere un nuovo punto di riferimento io consiglio a tutti di cambiare la propria etica per quanto riguarda il consumo quindi appunto evitare prodotti usa e getta favorire prodotti riutilizzabili questo sicuramente non ti cambierà sul soddisfare il tuo bisogno ti renderà soddisfatto uguale e anzi potrà far sì che all'interno della tua comunità o all'interno comunque sia della tua economia si possano sviluppare delle realtà che prima non erano esistenti che possa migliorare quindi sia l'impatto ambientale sia lo stile di vita che ha sulle persone quindi smettete di consumare cose che hanno l'utilizzo solo una volta e poi vengono buttate favorite quello che è economia circolare favorite tutto quello che può essere può rientrare all'interno del sistema piuttosto che essere un ciclo chiuso e insegnate agli altri a riutilizzare e ad avere un'etica sul riuso grazie a tutti